Con l'apertura di questo Enel X Store e quattro colonnine di ricarica superveloce, direi che Roma si pone davvero davanti in Italia per quanto riguarda la mobilità elettrica. Questo è evidentemente il primo punto di ricarica per le superveloci, ma stiamo installando già in città tantissime colonnine per la ricarica normale. Questo ci consente di dare una risposta a tutti coloro che stanno già cambiando l'auto. Inoltre abbiamo anche attivato dei servizi di sharing che a partire dal 2020 vedono oltre alle auto anche i monopatti nelle biciclette e tanto per darvi un dato, solo nel 2020 oltre 2 milioni di spostamenti sono stati fatti con lo sharing. Il che significa che con la mobilità stiamo andando e stiamo puntando decisamente verso un futuro sostenibile. Oltre a questo abbiamo riattivato i nostri minibus elettrici facendo proprio un lavoro di rivisitazione e revamping totale e stiamo lavorando per elettrificare alcune rimesse di autobus per poter avere anche autobus elettrici che circolano in città. Insomma il futuro è tracciato e noi siamo assolutamente presenti su questo.